Troppe aggressioni e troppa violenza durante l'attività lavorativa in ospedale. Con l'hashtag Non lasciateci soli, la rappresentanza sindacale unitaria della SST Lariana lancia l'allarme e chiede più sicurezza per medici, infermieri e personale sanitario. I sindacati si rivolgono con una lettera al governatore Lombardo Attilio Fontana e all'assessore al welfare Giulio Gallera e annunciano un presidio dei lavoratori venerdì 15 giugno sotto la prefettura di Como, dalle 9.30 alle 12. Un incontro con il prefetto Bruno Corda è già stato fissato per le 10.30. Manifestiamo la nostra grande preoccupazione per il mancato interesse delle istituzioni, dicono le RSU, affinché ci venga garantita la tutela fisica sul posto di lavoro. Minacce, aggressioni fisiche e verbali, danneggiamenti, in particolar modo in pronto soccorso, si legge nella lettera rivolta alla Regione, non sono più eventi straordinari, ma fanno ormai parte della quotidianità ed è evidente come tutto ciò sottragga tempo e risorse che dovrebbero essere impiegate nella cura e nell'assistenza degli utenti. Nulla è stato posto in essere sul territorio in maniera concreta, aggiungono, per poter sgravare il pronto soccorso da accessi impropri che determinano gli affollamenti, i lunghi tempi di risposta e il conseguente aumento del nervosismo che può sfociare in atteggiamenti violenti. A tal proposito, le RSU denunciano i continuitagli, i vincoli di bilancio e le riforme sanitarie regionali a cosso zero che nel corso degli anni hanno impedito un funzionale adeguamento del personale alle nuove esigenze sanitarie, rendendo ancora più difficile il rapporto con l'utenza. I sindacati chiedono dunque l'attivazione di un tavolo regionale sulla sicurezza. Grazie a tutti.